Ciao Angela! Allora, tengo un po' di fame Ah, un po' di fame? Sì, però sono indecisa E faccio una bella panonella Che è una panonella? Una bella cucciola di panna No, no! Eh! Sa scefiarlo, però! Tengo a scefiarlo pure il panzarotto Allora prima di fare il panzarotto sa scefiarlo in Suofa! Allora, fammo vedere questa ricetta Che faccio, che ha già detto che stanno voto la miglia Andiamo! Come si deve andare? E ora mi fa riscaldare le patate Ma non mi ha fatto il panzarotto e c'è il panzarotto Ok, allora Allora mi ha già accontento, vedi? Ok Quanto tempo aspettiamo? Aspettiamo che si fa le patate, un 4-20 minuti Ho visto che ha fatto l'aglio oggi e il peperoncino Ma lo faccio, mi fa proprio l'aglio biondo E io non ho i farietti Ho sciacquato i farietti E faccio un frien e mangiare E perché si chiama una frien e mangiare? Perché si chiama una frien e mangiare? Perché i farietti hanno un frien e mangiare Perché i farietti hanno un frien e mangiare Quindi l'aglio è l'aglio e l'aglio è l'aglio E quindi la frien e mangiare E ci sono i farietti E il semplice il sapore del frien Vedi? E poi lo faccio, mi sono pronti E ci sono pronti E poi mettiamo l'acqua qui Ma che fai? E poi la frien Ma questa lo devi fare con tutte le patate Sì Allora ora ti faccio tutto questo e ti hai preparato? Allora mettiamo un po' che sa Mettiamo un po' che pepe Allora ne metti ne ho Poco pepe? E poi per me poco E mescoli tutto con le mani Tutto con le mani Pulite Sempre Sempre pulite Ecco qua Salsiccia Un attimo i fiori Trovola E lo aiutiamo E che ti mangi mamma mia Eh hanno fatto la mia E' stato sfinzo il canzarotto Con i fiori Un attimo i fiori Un attimo i fiori Un attimo i panni grattugiati già lo stavi riscaldando si vedi abbiamo fatto fare a un lato lo facciamo quest'altro lato eccoli qua i manzalotti che buoni per te lo faccio grazie manzalotti a ciccia e fiaretta prua caro consulato grazie eccoli qui a me a me me lo lascio a buoni per vedere come sopra tu te l'hai mangiato già eh sì e io me ne mangio male fammi sapere comunque buonissima buonissima ah buonissima caro consulata